Il 13 aprile si è tenuto il convegno il commercialista online, opportunità e strategie nell'utilizzo del web e dei social network. Organizzato dall'ordine dei commercialisti e degli esperti contabili di Napoli Nord e nella cui sede si è svolto, l'evento viene avviato dai saluti istituzionali di Francesco Matacena, presidente Odd Check Napoli Nord e moderato da Filippo Mincione, presidente commissione comunicazione e ICT. Un convegno utile a illustrare come la professione del commercialista debba avere una presenza online, sfruttando le opportunità che offrono i social e che mostra come utilizzare al meglio i diversi canali di comunicazione in questi tempi, dove la comunicazione si svolge principalmente in formato digitale. Partecipano Raffaele Iodice, Diego Matricano, Pasquale Marzocchella, Domenico Giordano, Pasquale Brescia e Massimiliano Allievi, commercialista che racconta la sua storia e come la digitalizzazione concepita da molti come ostacolo lo ha aiutato ad affermarsi professionalmente. Tra i relatori Massimiliano Musto, esperto in formazione e comunicazione che spiega come la neuroscienza negli ultimi anni si evolve sempre più, diventando un tassello importantissimo per la comunicazione e per il marketing, trasformandosi quindi in neuromarketing. Tema che andrà probabilmente sempre più a diffondersi nei prossimi anni diventando indispensabile, è quindi importante anticipare lo studio della disciplina al fine di essere competitivi sul mercato.